Se sotto l'aspetto tecnico il Brindisi e i suoi tifosi hanno tirato un sospiro di sollievo con la ritrovata vittoria con il Gravina che ha portato i Biancazzurri a meno 3 dalla vetta, ci sono due aspetti che interessano società e tifosi che in queste ore infiammano il dibattito sui social e non solo. Il primo è il numero dei paganti al Fanuzzi, 548 per la gara con il Gravina con un ticket d'ingresso a 5 euro per circa 3.000 euro di incasso. Sono questi i numeri su cui si riflette e si discute nell'ambiente vicino ai Biancazzurri, per i più non è giustificabile un numero così basso di presenza sugli spalti dello stadio Brindisino alla luce dei sacrifici che la società sta continuando a fare per allestire e mantenere una rosa da primato. Per non parlare poi del confronto impietoso con altre realtà dello stesso girone come per esempio Barletta che fa registrare il sold out in ogni gara casalinga. Spesso anche la società si interroga sul perché dell'incostante numero di presenze che era sembrato essere in crescendo senza riuscire a darsi una risposta. C'è poi la questione stadio, manto erboso, molto spesso ai limiti della praticabilità, struttura che sembra cadere a pezzi, soprattutto le mura perimetrali e non per ultima la questione illuminazione. Su tutto questo è anche intervenuta la commissione consigliare lavori pubblici del comune di Brindisi che ha effettuato nelle ultime ore un sopralluogo da cui è emerso. Subito dopo la commissione ho allertato sia il sindaco Riccardo Rossi che l'assessore Oreste Pinto, il quale è anche arrivato nell'immediatezza all'interno dello stadio. Subito dopo sia il sindaco che l'assessore hanno prontamente allertato l'ufficio lavori pubblici che si è messo subito in moto per cercare di trovare una soluzione, quindi ordinando il tipo di lampade che sono delle lampade particolari per l'acquisto e quindi subito l'intervento di sostituzione e la messa in funzione dell'intero impianto. Insomma sarà forse la volta buona che almeno iniziando da qualche lampada il Fanuzzi possa iniziare il suo cammino verso una ristrutturazione totale dell'impianto.